Doppia ricorrenza ad Umberti Deieri perché oltre ad essere il 71esimo anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, è stato anche il giorno nel quale si ricordano le 70 vittime del bombardamento di Borgo San Giovanni, il 25 aprile del 44. Le celebrazioni si sono tenute proprio nell'antico Borgo, oggi Piazza 25 Aprile, distrutto dalle bombe sganciate dagli alleati nel tentativo di distruggere il ponte sul fiume Tevere. Il Vescovo Ceccobelli ha concelebrato insieme ai parroci del territorio la Santa Messa alle 10.30 la cerimonia civile dal titolo I Valori del 25 Aprile, cui sono intervenuti il sindaco Marco Locchi, l'onorevole Giampiero Giulietti e lo storico il professor Fabrizio Bracco. Alle 11 il corteo che sulle note della banda musicale Città di Umberti, diretta dal maestro Gagliano Cerrini, ha percorso le vie della città per deporre corona ai piedi dei monumenti ai caduti. Le celebrazioni si sono tenute anche nelle frazioni di Pierantonio e Monte Castelli. Celebrato anche a Città di Castello, presso la stela alla resistenza Alto di Berina, il 71esimo anniversario della liberazione, il corteo di autorità, associazioni combattentistiche e cittadini è partito da Piazza Gabriotti, aperto dalla filarmonica Puccini, diretta dal maestro Francesco Marconi e dal gonfalone del Comune, per raggiungere il viale Vittorio Emanuele Orlando, dove sulle note dell'Inno d'Italia è stata deposta la corona presso la stela dei caduti della resistenza. La cerimonia si è conclusa con l'esecuzione da parte della banda di Bella Ciao. Da Foligno vogliamo lanciare all'Europa e al mondo un appello alla pace, all'accoglienza, alla tutela dei diritti umani. Per questo motivo è qui con noi il sindaco di Granoller, vicepresidente del comitato esecutivo di Mayors for Peace, l'associazione composta da sindaci delle città di tutto il mondo. Parole del sindaco di Foligno Nandomismetti nel suo intervento per la cerimonia. Presente il picchietto della caserma Gonzaga, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Borscia e il presidente della sezione Ampi di Foligno Stefano Mingarelli.